musica Questa è la prima scena del nostro video, Silvio, dove siamo? A Colonia. Come siamo arrivati? In aereo. Come è andata? Benissimo. Da che ora è che non mangiamo? Da mezzogiorno, si vede. Quindi? Sono le 9. Buon appetito. Ho fame. Ciao. Andiamo per andare in centro. C'è un po' freddo, ce l'avoco un po' a vedere la cattedrale. E qui dovranno passare da un ponte che ha solo ferrovia e pedonale, che è famoso perché ci sono un sacco di lucchetti. ci vuoi venire a Colonia a carnevale? Ci vuoi venire a Colonia a carnevale? C'è un po' freddo, ce l'avoco un po' freddo, ce l'avoco un po' freddo, ce l'avoco un po' freddo. C'è un po' freddo, ce l'avoco un po' freddo. Dove siamo? Siamo al concerto di Jason Brazzi. Non so se abbiamo sentito bene. Siamo al concerto di Jason Brazzi.